È in arrivo l'estate e moltissimi di voi non vedono l'ora di farsi una serata, un aperitivo con un buon campari. Parliamo oggi di campari, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Francesco, su questo canale si parla di finanza personale, azioni e criptovalute. E no, non faremo il drinking live, anche perché non penso di esserne in grado di fare un buono sprizzo, un buon negroni, anche se è semplice. Perché oggi parleremo invece dei fondamentali di questa azienda, del perché ci ho investito circa un mese fa e del perché il trade sta anche andando male, nonostante la mia abbastanza assoluta convinzione che fosse il momento perfetto per investire. Però non è ancora detta l'ultima parola, perché appunto la tesi di investimento dietro questo mio investimento era la stagionalità. Quindi ho deciso di fare un trade circa un mese fa, sono entrato secondo appunto la stagionalità di questa azienda. L'ho già segnalata appunto nel video delle aziende migliori da acquistare con la stagionalità e è stata l'unica delle aziende su cui proprio ero andato in serenità, ho allocato una piccola parte del mio portafoglio, proprio perché conosco bene l'azienda, l'ho approfondita e soprattutto è uno di quei brand italiani iconici che hanno un mot al di là di quello che fanno, che producono. Partiamo dal Forecaster quindi. A livello grafico il titolo sicuramente sta su una zona interessante, considerando appunto che questo è un livello chiave con un supporto che ha tenuto diverse volte nel 2022 in piena crisi, attacco guerra in Ucraina, diciamo una serie di fattori geopolitici complessi che hanno fatto sì che il titolo comunque reggesse. Vediamo che negli ultimi 5 anni comunque non si è creato alcun valore, il titolo è stato veramente flat, ha fatto dei roller coaster, ma appunto il punto di adesso è il punto in cui era esattamente due anni fa. Negli ultimi 5 anni anche qua non si è creato alcun valore nonostante l'S&P 500 negli ultimi 5 anni abbia fatto l'80%, come possiamo vedere in questo caso a schermo. Questo ci fa capire che negli ultimi 5 anni comunque non è stato sicuramente un buon investimento stare in Campari, però negli ultimi 20 anni Campari ha regalato performance di più dell'800%, obliterando la performance dell'S&P 500, quindi del mercato, del benchmark, di più di un 500% di differenziale. Quindi oggettivamente non si può dire che sia stata una cattiva azienda a gestire il suo management, e il suo business negli ultimi anni, perché appunto negli ultimi 20 anni la generazione di valore è stata più di due volte quella dell'S&P 500. Questo sta a dire che è un'azienda che crescerà così anche nei prossimi 20 anni? Sicuramente no, però è da tenerne conto del fatto che è un'azienda che sicuramente sanno amministrare quelli del management. Vediamo che ci sono stati dei momenti no, 2022, 2014, 2008, però comunque anche in anni di difficoltà come il 2020 ha saputo dare rendimenti interessanti. Dividendo in crescita stabile, quindi sicuramente una forza da parte della società nel dimostrare che ci tiene agli azionisti, stagionalità che è il motivo per il quale anche sono entrato sul titolo, e vediamo che è proprio marcatissima, cioè comprando il titolo a metà marzo circa, in questo caso il 13 marzo, e vendendolo il primo di agosto, mediamente negli ultimi 5 anni c'è stato il 100% di possibilità di fare come average return il 21%, 90% negli ultimi 10 anni di fare almeno il 20%, 85% delle volte negli ultimi 20 anni di fare il 18,2% di media. Cosa significano questi dati? Significa che all'interno dell'orizzonte temporale, per esempio di 5 anni, come vediamo in questo caso qua, noi abbiamo un max drop, cioè una massima volatilità negativa, quindi un punto di minimo che si è presentato nel 2020 con un meno 12, e un max rise, quindi una massima crescita del titolo all'interno del time frame nostro, 13 marzo, primo agosto, del 52%. Significa che se noi avessimo voluto vendere il titolo, vedendo che c'era comunque questa percentuale di profitto, noi potevamo venderlo all'interno di questo time frame. Ovviamente perché va venduto ad agosto secondo la stagionalità? Perché è il momento migliore per venderlo, vediamo che comunque a livello di percentuali siamo quasi in dirittura del max rise. Io ho deciso di entrare proprio per questo motivo, vedremo come va questa cosa della stagionalità. Al momento, quest'anno, possiamo appunto confrontare, il titolo non sta seguendo la stagionalità, come vediamo questo qua è il titolo di quest'anno, questo rosso, quindi ha completamente distrutto la stagionalità, ma magari è solo in ritardo, potrebbe recuperare e tranquillamente portare a fare la percentuale di quest'anno, che potrebbe essere del 5% come del 20%. Mediamente i ritorni sono del 20%, quindi sicuramente questo è un anno da dimenticare finora per la stagionalità, perché comunque da quando sono entrato io, più o meno il 13%, comunque ha già perso un 5%, che equivale a dire uno degli anni peggiori, se consideriamo i max drop possibili. Perché qua c'era il 5%, però solo 6 anni su 20% c'è stato un max drop superiore al 5%, quindi comunque un anno particolare è questo, sarà interessante vedere quanto sarà il ritorno ad agosto, ovviamente vi terrò aggiornati, però secondo me stagionalità tool eccezionale, ci mostra anche lo short, se fossimo andati short all'interno di questo periodo negli ultimi anni avremmo solo perso soldi, perché la percentuale di avere quindi un ritorno sull'investimento shortando non era per niente remunerativa in termini di average return, ma soprattutto la percentuale di andare in profitto con il trade era altamente improbabile, quindi sicuramente questo tool del forecaster eccezionale per un titolo del genere con una stagionalità molto marcata, si venderanno sicuramente tanti spritz, tanti campari, tante vodka, tanti gin, tonic quest'estate sicuramente il titolo ne potrà beneficiare. Overboat, oversold che non segnala delle forti decorrelazioni o comunque non mostra che il trend negativo sia verso la fine, perché appunto non c'è una forza opposta a Wyckoff causa-effetto o uno speed che ci dimostri che si sta perdendo forza nel trend negativo, però potrebbe essere anche una questione semplicemente di attesa di una news. Fondamentali che secondo me sono ottimi, ma non eccellenti per una tenda del genere, vediamo che c'è comunque stata un'ottima crescita a partire dal 2020, l'azienda ha messo il turbo per la crescita, sicuramente i multipli sono aumentati anche in vista di questo notevole slancio che ha avuto il titolo. Vediamo che comunque il forecaster ci segnala una sottovalutazione abbastanza marcata e se andiamo a togliere anche la valutazione diciamo più generosa col discounted cash flow, comunque il titolo appare del 20% sottovalutato, quindi sicuramente questo è molto interessante. Vediamo che a livello quarterly, il mese di dicembre ha portato un ritorno su un fatturato pressoché doppio rispetto a tutti gli altri trimestri dell'anno, quindi sicuramente è molto interessante questa metrica nel vedere se anche gli prossimi anni si verificherà un trimestre così marcato. Interessante che appunto rispetto all'anno prima hanno raddoppiato il fatturato quarter su quarter in un singolo anno, quindi non è sicuramente una metrica da sottovalutare considerando che anche qua non vendono software ma vendono bottiglie di alcolici, quindi sicuramente è un mercato che se tu vai a aumentare e raddoppiare il fatturato vuol dire che o hai fatto delle acquisizioni strategiche cosa che loro hanno fatto ma le hanno fatte negli anni e soprattutto l'acquisizione recente che vedremo nel video non è ancora stata conteggiata a bilancio quindi sicuramente questo aumento del fatturato non deriva da questa acquisizione anche perché l'acquisizione stessa è di un miliardo e tre quindi non è che si riesce a convertire esattamente un miliardo e tre di acquisizione subito in fatturato tutti quei soldi perché ovviamente ci sarà stato un premio su quell'investimento avranno 100 milioni 200 milioni in più di fatturato l'anno da questo investimento in secondo luogo questa forza che c'è stata in termini di crescita del fatturato spero che venga mantenuta perché se ci sono dei quarter che mantengono questo fatturato anche nei successivi sicuramente il titolo potrà beneficiare in termini di valutazioni solidità del titolo altissima basso rischio di bancarotta vediamo che comunque questo indicatore Altman Zscore ci direbbe che c'è un rischio bancarotta sotto l'1.81 in questo caso siamo a 3.3 quindi più del doppio Piotrowski Fscore che ci dice che l'azienda si è deteriorata negli ultimi trimestri in termini di fondamentali di bilancio asset eccetera questo è vero perché hanno dovuto indebitarsi e mettere equiti e finanziare appunto questa acquisizione quindi sicuramente si è depauperato un po' il patrimonio aziendale ma l'obiettivo è generare valore generare cassa generare soldi dall'acquisizione che hanno fatto quindi rinunciano a un po' di cassa a un po' di soldi a un po' di benessere della società nel breve per ottenere un beneficio marginale maggiore nel lungo periodo Banisham Score che testimonia che la società non è in una situazione di presunzione di manipolazione di bilancio se andiamo a vedere a livello di le shares outstanding sono diminuite questo era un altro dei motivi per il quale ero contento di comprare quest'azione di tenerla in portafoglio sono diminuite e non di poco comunque sono leggermente ricominciate a salire appunto per finanziare questa recente acquisizione ma veramente di poco possiamo vedere quarterly appunto da inizio hanno iniziato a emettere qualche azione in più ma parliamo di circa 10 milioni di azioni in più che valgono circa 9 dollari quindi non stiamo parlando sicuramente di cifrone shareholder yield che per molti anni è stato positivo anche se di cifre ridicole comunque nell'ultimo anno non c'è stata alcuna ricompensa perché appunto si è voluto finanziare l'acquisizione anche un po' depoperando il patrimonio degli azionisti sales per share che sono sempre aumentate ed è una cosa ottima perché il buyback significa che fa ancora più effetto si restituisce un sacco di valore agli azionisti gross profit che comunque è aumentato in percentuale meno quindi la marginalità è sicuramente diminuita sui prodotti sono aumentati i costi e le materie prime non sono riusciti a scaricarli interamente sul consumatore però vediamo che solo su questo quarter il free cash flow per share è andato in negativo per il semplice fatto che c'è stata l'acquisizione ma a fine quarter precedenti era sempre in positivo anche se di poco sicuramente l'azienda non sta facendo benissimo dal punto di vista dei margini però io ritengo che una valutazione del genere per un titolo del genere essendo in linea anche con i competitor è una valutazione più che accettabile nonostante quindi i fondamentali siano più che ottimi dell'azienda che ci sia stata un'acquisizione e tutto non ho ancora parlato di cosa si occupa questa azienda Campari si occupa principalmente di produrre bibite alcoliche parliamo quindi in una presenza di nel settore sia dei soft drink ma soprattutto dei drink alcolici più venduti che sono Aperol Campari e Sky Vodka quindi un posizionamento sul mercato chiaro per cercare di attaccare sia al mercato degli aperitivi sia al mercato delle discoteche con poi anche brand nel campo del whisky del rum dei liquori della tequila o del gin parliamo quindi di Wild Tarky per il whisky Appleton Estate per il rum Grand Marnier per i liquori Espolon Tequila Bulldog Gin una recente acquisizione del 2018 liquori storici italiani come il Cinar La Verna il Frangelico il Braulio e poi tanti brand della Cinzano che appartiene al gruppo Campari che fanno uno dei tre ingredienti del Negroni parliamo inoltre anche di una recente acquisizione di Corvoise che è un brand top 3 al mondo di Cognac che è un particolare tipo di brand di prodotto solo in Francia quindi una particolare lavorazione tutto questo per dire cosa che hanno un posizionamento quasi completo nel settore degli alcolici e il principale competitor è di Ageo che è i principali altri competitor a livello appunto di super alcolici e di alcolici normali questa acquisizione di Corvoise serve a posizionarsi anche nel mercato dei Cognac che non è un mercato molto modaiolo in questo momento ma è estremamente remunerativo soprattutto se vai a comprare una delle aziende più importanti l'acquisizione è pesata parecchio a livello di bilancio 1.32 miliardi finanziati principalmente a debito e hanno comprato questa azienda circa 17 volte gli utili quindi comunque hanno fatto un'acquisizione strategica per il lungo periodo perché il mercato del Cognac è un mercato non sicuramente modaiolo e in crescita come quello della tequila o della vodka o del gin però sicuramente un mercato costante che nel tempo tende anche ad apprezzarsi non ritengo che sia un'acquisizione proprio geniale secondo me e penso che sia anche per questo che il titolo non è schizzato come di solito fa la sua stagionalità perché in questo momento appunto serviva cercare di magari cercare di acquisire qualche altro brand di qualche competitor non proprio un brand un po' da vecchi se vogliamo l'azienda comunque ha 630 milioni in cassa che vanno a compensare interalmente tutte le liabilities che sono 620 milioni una delle cose che mi è più piaciuta come abbiamo visto nel forecaster il fatto che fanno buyback e attualmente siamo ai minimi dal punto di vista dei multipli nonostante siamo ai massimi dal punto di vista dei ricavi e degli utili quindi comunque è un'azienda che sta continuando a crescere e che secondo me è molto difficile che vada in difficoltà avendo una posizione di bilancio ottimale secondo me negli ultimi 3 anni i ricavi comunque sono cresciuti del 18% CAGR quindi anno su anno circa di media e negli ultimi 5 anni dell'11% anno di questo gli utili sono cresciuti negli ultimi 5 anni solo del 2% anno di media negli ultimi 3 anni di circa il 21% andiamo a vedere il costo che hanno per produrre un singolo prodotto nonostante l'inflazione e tutto l'hanno scaricato interamente sul consumatore infatti la crescita dei costi negli ultimi 5 anni è stata in linea con quella dell'aumento dei ricavi quindi questo è un ottimo dato per capire che la società non sta diminuendo la marginalità pur di vendere e di aumentare quei ricavi che abbiamo visto prima andiamo a vedere i competitor comunque non ha dei multipli sicuramente economici l'azienda però c'è anche da dire che è andata in difficoltà dopo quest'ultima acquisizione che l'ha un po' tra virgolette impegnata barra rallentata rispetto ad altri competitor che non hanno fatto recentemente acquisizioni così pesanti per i loro bilanci qua infatti vediamo il PE a schermo e a livello di price to sales vediamo che è il minimo storico suo personale e rispetto ai competitor è proprio ai minimi dei minimi questo implica che l'azienda sta crescendo a un ritmo non comune a livello di revenue e appena sistemerà la marginalità potremmo dire che l'azienda è in ottima salute ed è estremamente competitiva verso i competitor a noi però essendo azionisti interessa quanto cash gli rimane in mano quindi il free cash flow e se andiamo a vedere il prezzo su free cash flow to equity quindi quello che rimane in mano agli azionisti vediamo che il multiplo è estremamente in linea con i veri competitor perché sì ci sono brand cinesi però che non intaccano completamente il business occidentale però Diageo ha lo stesso multiplo quindi questo significa che Diageo nonostante sia valutata diversi miliardi in più di campari comunque gli stessi multipli di valutazione e vuol dire che Campari non è in questo momento surriscaldata se prendiamo le V su EBITDA che per queste aziende ha molto senso perché esclude tutta la parte di gestione non caratteristica dell'azienda quindi tutto quello che non è vendere super alcolici vediamo che comunque è in una posizione di una tra virgolette valutazione equa rispetto ai competitor ci sono competitor soprattutto asiatici più surriscaldati e siamo comunque in pari con Diageo che è il nostro principale competitor in generale l'azienda io l'ho acquistata per appunto fare il trade a livello stagionale non mi sembrava un'azienda sottovalutata che normalmente avrei comprato senza voler testare la stagionalità come diciamo fondamentale di una tesi di investimento potrebbe andarmi bene potrebbe andarmi male al momento non sta andando bene ma è un test su decine che potrei farne e soprattutto se mi stessi andando bene in questo momento non vuol dire che avrei ragione proprio perché il test va portato fino al primo di agosto di quest'anno per capire se ha senso o non ha senso investire solo ed esclusivamente sulla stagionalità ovviamente tutti i fondamentali che ho nominato hanno senso ma non sarebbero tali da poter dire questa azienda è sottovalutata quindi ci investo proprio perché a me interessano dei multipli molto più bassi interesserebbe vedere una situazione a livello di bilancio con una maggiore generazione di cassa di cash mi piacerebbe vedere che la società evita di fare certe acquisizioni selvagge e piuttosto si concentra su efficientare quello che già ha perché ha dei brand pazzeschi in portafoglio che vanno semplicemente spinti a livello di marketing in mercati che sono ancora inesplorati o comunque mercati dove è difficile penetrare secondo me andrebbe per esempio comprato un altro brand di gin se si vogliono fare acquisizioni in modo tale da diversificare anche l'offerta di gin e di tequila che al momento sono quelle cose che stanno andando di più tra i giovani posizionarsi anche a livello social con delle campagne marketing pesanti con attori star di Hollywood o di TikTok come volete voi diciamo che farei una campagna diversa per efficientare tra virgolette l'evento dei prodotti però comunque mi sento abbastanza soddisfatto della gestione del management soprattutto questa acquisizione che hanno fatto di questo brand di cognac potrebbe essere comunque strategica nel lungo periodo essendo comunque un mercato ancora inesplorato per l'azienda in ogni caso se siete interessati ad analizzare altre aziende con il forecaster per vedere la stagionalità che come possiamo vedere è assurdo avere un tool come il forecaster che ti dà la possibilità di vedere così indietro nel tempo anche per un'azienda dei dati così precisi ti permette di stabilire anche i vantaggi statici di queste cose qua ricorda tutti che lo trovate in descrizione Apple euro dollaro gratuito se volete inoltre passate sul mio canale Discord che vi lascio qua live gratuito ogni martedì e buone notizie tra poco rimanete connessi entrateci fatemi sapere cosa ne pensate del canale Discord al momento abbiamo bot abbiamo una community tante persone interessate a queste cose qua ai mercati finanziari e ricordati sempre che se non sei tu che ti occupi di economia sarà il canale economia occuparsi di te ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti